Il 16 aprile prossimo saremo in piazza al fianco delle imprese chiamate a restituire le tasse sospese dopo il sisma del 2009, un provvedimento iniquo e ingiustificato che va a cozzare tra l'altro con una legge dello Stato ancora in vigore e che mette a rischio migliaia di imprese aquilane e teramane, soprattutto piccoli artigiani. Così il direttore della CNA dell'Aquila, Agostino del Re, e il direttore della CNA di Teramo, Gloriano Lanciotti, sulla partecipazione congiunta insieme a imprenditori e lavoratori del settore al corteo di protesta previsto per lunedì prossimo all'Aquila. La rappresentanza della CNA sarà capeggiata dal presidente CNA dell'Aquila, Gianfranco Torrelli, e dal presidente della CNA di Teramo, Bernardo Sofia. Presentata la 52esima edizione del Vinitaly, l'evento internazionale per eccellenza dedicato al vino che si svolgerà a Verona dal 15 al 18 aprile. L'Abruzzo sarà presente con un'area consortile di 1200 metri quadrati. Altri 800 metri quadrati sono a disposizione delle aziende presenti con un proprio stand e ospiterà complessivamente 100 cantine regionali. Sarà un'edizione importante, l'Abruzzo festeggerà infatti i primi 50 anni dal riconoscimento della DOC Montepulciano d'Abruzzo. L'assessore regionale alle politiche agricole Dino Pepe. Domenica prossima inizia il Vinitaly e l'Abruzzo sarà assolutamente protagonista con oltre 100 cantine e oltre 20 aziende produttrici di olio. Un'edizione particolare quest'anno poiché si festeggiano i primi 50 anni del Montepulciano d'Abruzzo DOC. Un'idea brillante, positiva, lungimirante, avuto da Carmine Festa 50 anni fa insieme ad altri produttori che credettero in questo progetto di certificazione del prodotto. Hanno avuto ragione, gli imprenditori hanno creduto alla certificazione del prodotto agricolo e oggi il Montepulciano d'Abruzzo è protagonista in Italia e nel mondo. Il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha partecipato alla tavola rotonda sul tema doppia preferenza, unica democrazia, organizzata dalla Commissione regionale Pari Opportunità in vista del futuro rinnovo del Consiglio regionale dell'Abruzzo. A dare il loro contributo alla tavola rotonda erano presenti Gemma Andreini, Presidente della Commissione, il Professor Stanley Omangiamelli, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Teramo, Marinella Sclocco, Assessore regionale alle Pari Opportunità, Sara Marcozzi, Consigliere regionale e Alessandra Genco, Consigliera di Parità. Abruzzo, come tantissime altre regioni, che devono mettere in legge elettorale la doppia preferenza, quindi sia la doppia preferenza, il sottoscritto insieme all'assessore Sclocco e al collega Lucrezio Paolini. Abbiamo presentato una legge sulla doppia preferenza, quindi noi siamo favorevolissimi alla doppia preferenza. Oggi però, sapendo che lo scenario politico nazionale, ma anche quello regionale, è cambiato, probabilmente anche la legge elettorale deve essere ritoccata in qualche aspetto proprio per garantire, come dicevo prima, non solo la rappresentatività territoriale, ma anche una stabilità di governo che dia sicurezza soprattutto ai cittadini attraverso un percorso che duri serenamente cinque anni. Devo aprire una parentesi di soddisfazione perché molti consiglieri stanno anche ieri e oggi firmando questa proposta di legge. Quindi questo ci fa ben sperare che ormai siamo nelle diretture d'arrivo e che quindi il prossimo Consiglio regionale possa approvare questo emendamento e quindi inserire questo altro tassello di democrazia anche nella nostra regione. Purtroppo i partiti non garantiscono il libero accesso delle donne a quella che è la vita politica. Fortunatamente il Movimento 5 Stelle non soffre di questo problema. È la forza politica che ha eletto il numero più alto di donne all'interno del Parlamento sia in questa legislatura che nella legislatura passata ed è l'unico movimento politico che ha eletto a sindaco insomma delle donne importanti in città importanti come appunto Chiara Pendino a Torino e Vergine Araggi a sindaco di Roma. La regione Abruzzo scende in campo per contrastare la povertà e l'esclusione sociale con particolare riferimento alle famiglie multiproblematiche che necessitano di assistenza e lo fa con Abruzzo Care Family. Ne parliamo con l'assessore regionale alle politiche sociali Marinella Sclocco. Abruzzo Care Family è un aiuto per il potenziamento dei servizi sociali nei comuni quindi negli ambiti sociosanitari. Questo avviso è di circa 3 milioni di euro quindi daremo 3 milioni di euro agli ambiti che faranno programmazione e progettazione sul potenziamento dei servizi alle famiglie, alle coppie, alle persone in stato di difficoltà. Inoltre sarà un aiuto anche per i caregiver e cioè per le persone che assistono i propri familiari in termini di sostegno lavorativo, in termini di supporto psicologico. Quindi si apriranno degli sportelli nei comuni dove la famiglia e i familiari ma non solo anche le coppie anche i cittadini potranno andare, recarsi ed essere orientati, ed essere supportati e avere anche diciamo delle risposte più concrete rispetto alla loro situazione problematica. Chiusura in grande stile la scorsa domenica per la stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese 150 coristi e 50 orchestrali che hanno eseguito la nona sinfonia corale e re minore ad esibirsi l'orchestra sinfonica abruzzese. Ne parleremo tra poco nella rubrica Il Punto. Il Punto